Il regista e produttore francese Luc Besson è stato denunciato per stupro ed è in corso un'indagine. Ad accusarle un'attrice di 27 anni che non ha voluto rendere noto per ora il suo nome. L'attrice ha raccontato che il regista francese l'avrebbe drogata e poi avrebbe abusato di lei. Besson, tramite il suo avvocato, nega categoricamente ogni addebito, ma le indagini sono in corso. Il 59enne regista, famoso per film come Le Grand Bleu, Léon, Nikita e Il Quinto Elemento, ha prodotto un centinaio di film e ne ha diretti moltissimi.